I fondi del PNRR sono stati al centro della 40esima assemblea annuale del Lanci che si è svolta a Genova e alla quale hanno partecipato anche i sindaci abruzzesi. Nella giornata conclusiva il presidente del Lanci Abruzzo, Gian Guido D'Alberto, ha chiesto al governo un'attenzione particolare alle aree del centro Italia colpite dal terremoto. Un'altra giornata molto importante nella quale abbiamo condiviso le problematiche che tutti i comuni italiani vivono e soprattutto le prospettive. Il tema centrale è stato il PNRR. La preoccupazione comune del fatto che le risorse dei comuni non debbano essere definanziate ha dato forza nel dialogo con il governo e continuiamo a pretendere che il governo lasci le risorse del PNRR ai comuni perché i comuni stanno rispettando tutte le scadenze. Il tema tra l'altro già anticipato nell'incontro di Tera. Sì, già anticipato su questioni che riguardano tutto il territorio abruzzese, 500 milioni di euro per la regione Abruzzo e anche Tera ha interventi importanti su cui stiamo andando avanti, siamo pienamente in regola. La stima e anche l'amicizia che il presidente nazionale De Caro ha con lei, può spostare l'attenzione del Lanci nazionale su Tera, su Abruzzo? Sì, insomma c'è un legame forte, un legame forte che è nato dal lavoro quotidiano. Il presidente De Caro lascerà ovviamente per scadenza del mandato da sindaco di Bari i Lanci. Il Lanci avrà una continuità sulla scia appunto del lavoro del presidente De Caro. E l'Abruzzo è centrale, è centrale perché ha ricostruito nel corso di questi anni, io ho sfruttato anche il lavoro del mio predecessore Luciano Lapenna ma di tutti i sindaci abruzzesi, una centralità nel panorama nazionale. Oggi Teramo è un riferimento, lo abbiamo dimostrato anche nella tre giorni dove abbiamo portato le questioni della nostra città ma più in generale della regione e dell'intero cratere sismico del centro Italia.